Prima sagra di San Martino, tradizioni in una notte d'autunno. Spettacolo folk, giochi popolari, stands artigianali, gastronomici e vino a volontà. Sabato 15 novembre, dalle ore 19, Bova Marina si tinge di rosso. Prima sagra di San Martino, tradizioni in una notte d'autunno. Media partner dell'evento Tele Bova Marina, Tele Melito e Radio Studio 95.